Sono stati prorogati i licenziamenti dei 29 operai dell'Ergon, a cui le lettere erano arrivate in questi giorni scatenandone la protesta. Questo l'ultimo atto che porta alla firma del commissario Vittorio Esposito, che ha anche disposto di nuovo la cassa integrazione per i lavoratori, aprendo, almeno idealmente, uno spiraio. Solo idealmente perché i 29 operai continueranno a non prestare servizio per le difficoltà dell'azienda e continueranno a non percepire nulla né lo stipendio per l'assenza di liquidi né la cassa integrazione, visto che all'Inps è in corso una discussione in merito, ma potranno contare su qualche tutela in più. Se il Ministero dovesse dare parere favorevole alla cassa integrazione, infatti, e si sta lavorando per ammorbidire anche la posizione dell'Inps, gli operai potrebbero percepire la relativa indennità con gli arretrati che partono da agosto scorso, in attesa di uno scossone che cambi quanto va avanti ormai da anni. La vicenda si potrà risolvere solo con la nuova legge regionale che è di prossima approvazione, ha detto Esposito, perché si conoscerà finalmente il futuro degli operai e come verrà organizzato l'intero ciclo dei rifiuti sulla base di nuovi criteri. Per il momento, dunque, nessun tavolo tecnico indetto dai sindaci potrà risollevare le sorti degli operai, ne è convinto Vittorio Esposito. La Ergon, ha detto, è una società fallita, ci sono 10 milioni di euro di debiti, i sindaci più che parlare dovrebbero pagare il dovuto. E in linea con questo, il primo cittadino di Sassano, Tommaso Pellegrino, proprio in questi giorni ha fatto sapere che la prossima settimana effettuerà il bonifico delle somme dovute dal proprio comune, chiudendo così per quanto gli riguarda la vertenza.